A Gandino si può dire che la radio parrocchiale torna in onda. Trent'anni fa Gandino aveva presentato un'esperienza, se vogliamo, pioneristica con un nome che allora era futuribile, che era quello di Radio Studio 2001, un emittente che su Onda FM trasmetteva direttamente dall'oratorio di Gandino. Era nata alla fine degli anni 70, si trasferì con sede fissa in oratorio nel 1982. Ora ormai a trent'anni di distanza questa radio rinasce, ovviamente con tecnologie assolutamente diverse e anche con un canale, se vogliamo, inedito. Si tratta infatti di una web radio, questo è proprio il nome che abbiamo dato alla stazione web radio di Gandino.it, una stazione che trasmette dalla sede dell'oratorio ma che comprende anche per le sue trasmissioni tutte le funzioni che si vengono celebrate nella Basilica di Santa Maria Assunta, nella Chiesa di San Mauro, annessa al Convento delle Orsoline e anche nella Chiesa di San Giovanni Bosco, qui nell'oratorio Sacro Cuore. Quindi un mezzo innanzitutto pastorale ma che, perché no, può diventare anche un modo per trasmettere, è proprio il caso di dirlo, entusiasmo, voglia di fare da parte di tutti i giovani dell'oratorio. Siamo partiti, dicevo, con una trasmissione sperimentale che si intitola Attenti a quei due variazioni sul tema. È condotta dal sottoscritto, responsabile della redazione del bollettino parrocchiale Laval Gandino e da Don Alessandro Angioletti, che a Gandino è ovviamente il direttore e il curato dell'oratorio. La trasmissione non ha pretesa alcuna se non quella di sperimentare canali di dialogo con gli ascoltatori e quindi oltre a raccontare di attività, eventi collegati alla vita parrocchiale a quella dell'oratorio, abbiamo anche aperto un canale di comunicazione con il pubblico, soprattutto con i ragazzi, attraverso un piccolo gioco a premi che davvero ha fatto un poco il successo della nostra trasmissione, se così vogliamo dire, anche se evidentemente a livello di ascolti lavoriamo ancora su numeri molto bassi, ma questo ci incoraggia ovviamente a fare meglio. Potremmo anche dire con una battuta, infine, che quella che una volta era la radio del vicario ora parte con il vescovo, perché negli anni Ottanta, quando Radio Studio 2001 partì proprio in queste sale nell'oratorio di Gandino, curato dell'oratorio, era Monsignor Davide Pelucchi, che oggi è vicario generale della nostra diocesi e per la trasmissione inaugurale di Attenti a Quei Due, trasmessa proprio qui da Gandino, abbiamo invece come ospite il nostro vescovo, Monsignor Francesco Beschi, quindi speriamo davvero che diventi un'esperienza positiva e importante per tutta la comunità di Gandino. Buonasera a tutti, sono Don Innocente, il parroco da pochi mesi di questa comunità, che cerca tutti i modi per poter comunicare, non solo attraverso i microfoni della Chiesa, attraverso le relazioni più normali con le persone, sempre perfettibili certamente, ma anche attraverso questo nuovo strumento, non nuovo perché abbiamo sentito Gian Battista, ci ha ricordato la storia, ma è uno strumento che comunque vorrebbe contattare le persone che sono a casa, gli ammalati, è nato innanzitutto per far sì che potessero partecipare in qualche modo alla liturgia, ma anche i ragazzi, potrebbe essere un uso durante il CRE di quest'estate, durante le serate e un'occasione anche per i giovani di esprimere loro stessi. È bello poter comunicare con voi a due giorni dall'incontro con Papa Benedetto XVI e gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Non abbiamo questa pretesa di poter arrivare così lontano, ma certamente il nostro strumento internet ci permette di farci sentire anche per esempio ai sacerdoti missionari che sono stati sacerdoti qua a Gandino e che già nelle trasmissioni precedenti sperimentali ci hanno già contattato e ci hanno già ascoltato. È uno strumento, speriamo che i giovani si appassionino, sia quelli che saranno qui operativamente a lavorare ai DJ e insieme anche coloro che da casa attraverso le radio o web radio gandino.it potranno mettersi in ascolto.